Francesco Totti mette a segno uno dei suoi gol più belli. L'ex capitano della Roma si è recato stamani al Policlinico Gemelli con un solo obiettivo, mantenere la promessa fatta a Ilenia Matilli, la 19enne vittima lo scorso dicembre di un gravissimo incidente stradale, costato la vita alla sua migliore amica e da mesi ricoverata presso l'unità operativa di neuro-riabilitazione ad alta intensità del Policlinico. La giovane si è risvegliata dal coma anche grazie al suo idolo. Totti, infatti, su invito dei genitori di Ilenia, le aveva recapitato un videomessaggio e la ragazza, sentendo la sua voce, aveva dato segnali di recupero confortanti e chiesto, con l'ausilio di una lavagna che al momento l'aiuta a esprimersi, scrivendo le frasi con le sue dita, di incontrarlo in reparto. Invito prontamente raccolto. Per circa un'ora Totti si è intrattenuto con Ilenia, in completo giallorosso, dialogando e scherzando. Ne è seguito anche un invito a cena, per quando Ilenia potrà far ritorno a casa. Prima di salutare la sua giovane tifosa, emozionatissima e sorridente, i suoi genitori e tutta l'equipe del reparto del Gemelli, Totti ha anche firmato con un pennarello color oro la maglietta della Roma, indossata da Ilenia.